Istriano, Segugio Maremmano, Alpendisc Dax Terrier, Bassetound, Beagle, Petit Griffon Venden, Bassotto standard a pelo corto, Bassotto standard a pelo duro, Bassotto nano a pelo corto, Bassotto nano a pelo lungo, Bassotto nano a pelo duro, Bassotto nano a pelo duro e Bassotto canninken a pelo duro. Molto ben rappresentato questo raggruppamento, il quinto raggruppamento nel pre-ring. Il Dalmata, elegante cane impiegato a difesa e corredo delle carrozze in Dalmazia, in questo caso nella varietà di mantello color fegato. Il Guido ci sta valutando la durezza del pelo di questo cane griffone, è il griffone Nivernais. Siamo nell'ambiente della caccia, Segugio Italiano. Nella varietà pelo corto, il Segugio dell'Istria. Esiste anche una varietà pelo duro, sono cani molto rari, molto apprezzati nell'ambiente della caccia. Il Segugio Maremmano, che da poco tempo può ottenere il caccibe nelle esposizioni internazionali, in quanto l'AFC l'ha riconosciuto a titolo definitivo come razza internazionale. Alpendisc Daxbrac, è il nome di questa razza. Alpendisc Daxbrac, scusate se non lo scegli lingua, comunque è questo qui. Piccolo Segugio delle Alpi da montagna, lo diciamo in italiano. Ed è il Bassetound, è quello a seguire. Di questa categoria Segugio, probabilmente quello più amato dei bambini è il Beagle, che è ispirato il disegnatore che poi ha creato Snoopy. Piuttosto raro, ma ben rappresentato nelle manifestazioni canine, è il Petit Griffon Vendain. Anche qui si richiede una difesa degli occhi e del muso, con barba, baffie e delle sopracciglia cespugliose. Entriamo nella grande famiglia dei Bassotti, dove vi sono più taglie e più varietà di mantello. Questo è il Bassotto Standard, col pelo corto. Il Bassotto Standard, dal pelo duro. Anche lui andrà avanti e indietro sul ring, affinché il giudice possa valutare la conduzione degli arti, e valutare se sono ben in appiombo. Segno di corretta costruzione morfologica, uguale a salute, che farà vivere a lungo e felicemente questo cane, o altri cani. Siamo ora nella taglia Nana, e di nuovo il pelo corto. Oggi, in questa taglia, possiamo ammirare anche il pelo lungo. Quanto pare a un Fans Club che segue questo soggetto. Ancora nella taglia Nana, il Bassotto, col pelo duro. E in questa razza esiste anche una varietà più piccola. Parliamo del Bassotto Kaninke, in questo momento rappresentato anche nella varietà di mantello a pelo duro. Nel pre-ring tutto il quinto gruppo. Un giro tutti insieme per i Gambalunga. e per i Gambacorta, che sono il Bassotto e il Bassetto. Il Dalmat si ferma. Il Dalmat si ferma. Allora, madame, stop. Allora, madame, stop. Terzo posto, ma sotto standard a pelo duro. Secondo posto, Bigel. E sul podio più alto, il Petit Griffon Vendain. Cagli nordici di tipo spizze primitivi. e... 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 Grazie a tutti.